Blitz e arresti dei carabinieri di Taramton nel bunker della droga. I militari hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio in un appartamento della città vecchia dotato di sistema di videosorveglianza e di una porta blindata all'interno della quale, secondo quanto accertato, avveniva una florida attività di spaccio di droga. I militari hanno dunque arrestato in flagranza di reato due persone, un tarantino di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine e un 28enne incensurato. L'operazione è scattata dopo diversi giorni di osservazione, durante i quali i militari hanno notato un sospetto via vai di persone proprio nei pressi dell'abitazione. Così hanno deciso di intervenire dopo aver citofonato ripetutamente senza ottenere risposta. Da un piccolo foro tra la porta blindata e il muro hanno potuto scorgere che all'interno era presente qualcuno che, con un sacchetto di plastica bianco, si era recato nel bagno tirando subito lo scarico. I carabinieri si sono anche accorti che l'abitazione era completamente videosorvegliata da diverse telecamere esterne. Solo dopo diversi minuti, due hanno aperto la porta e consentito l'accesso ai militari, i quali hanno subito notato la presenza di una grata metallica, posta a protezione della porta e poi di un'ulteriore micro telecamera direzionata sull'accesso interno dell'abitazione di un monitor, funzionante con quattro inquadrature attive sugli accessi. Un vero e proprio covo bunker. I carabinieri hanno rilevato la presenza poi di residui di bus di cellofan bianco tagliuzzate all'interno del water, segno questo che poco prima aveva stato disperso un quantitativo di sostanza stupefacente. Durante poi la successiva perquisizione sono stati sequestrati tre involucri in cellofan contenenti e complessivamente tre grammi di cocaina nascoste all'interno di una lampada a muro. Vario materiale poi utilizzato per il confezionamento in dose circa 600 euro in contanti, quale è probabile? Provento dell'attività di spazio e uno scanner a radiofrequenza.